Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Prima di tutto mi vorrei scusare per l'assenza prolungata che ho fatto nel mio canale Purtroppo ero un po' svogliato ragazzi nel fare i video Anzi neanche tanto fare i video Ma proprio il fatto che non ci siano titoli alternativi da interporre ai classici Call of Duty, Battlefield, Titanfall e altre cazzate Io ragazzi adesso sto proponendovi Minecraft perché ho trovato una cosa molto buona Che sicuramente interesserà a molti di voi appassionati come me di questo gioco pixeloso E niente ragazzi io cercherò sempre di fare qualche video Perché mi fa piacere ovviamente tenervi aggiornati su tutto Ma se non prendete la mia svogliatezza come non aver voglia di fare i video Ma proprio il problema dei titoli ragazzi E' un problema che ormai sapete che a ogni console next gen si porta dietro questa cosa Proprio per il fatto che escano pochissimi titoli Quindi ci tocca aspettare che magari esca qualcos'altro In modo che magari uno youtuber possa variare un pochino Stavo pensando di prendermi Metro Redux Redux come cazzo si chiama Però anche quello è solo esclusivamente la storia Quindi non so quanto vi possa piacere un gameplay Che magari avete già giocato su console O il gen come su 360 come su PS3 Quindi ragazzi vi volevo dire Quindi partiamo con la puntata Vi volevo dire che su questo Minecraft Anzi su questo Minecraft Su Minecraft Ho scoperto 16 semi Che possono essere utilizzati ovviamente per la corzione 360 Ecco lo stronzo che mi vuole far saltare in aria la casa Pezzo di merda vero? No tu vuoi salire bastardo Cioè si fa il giro No! Non ci credo! Via 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 via! Guarda che pezzo di merda Ah vero pezzo di merda eh? Comunque No! Ma vaffanculo! Ma fate esplodere tutto ragazzi Che pezzo di merda quel creeper Minchia da la bomba facile Bastardo Comunque sia ragazzi Lasciamo perdere il creeper che mi ha distrutto Magari non salvo il mondo in questo caso Ho creato il portale E vi volevo dire Che ho scoperto questi 16 semi Con delle varie funzionalità Che adesso ragazzi andiamo a vedere Allora rimpiccioliamo questa finestrella Andiamo su Minecraft E ragazzi ho scoperto vari semi Dove ovviamente è possibile Costruire un tempio nella giungla Con ovviamente i villaggi Dove ci sono delle casse di diamanti Anche tempi nel deserto In questo caso io ho fatto il tempio nel deserto E altre mappe customizzate Che ovviamente vi linkerò Anzi no neanche vi linkerò Vi metterò l'immagine gigante Della pagina che ho trovato E poi ovviamente anche il link Poi magari il link lo tolgo Non lo so Con tutti i codici ragazzi Quindi potete metterli Utilizzarli per Non lo so Per creare il vostro mondo Con determinate caratteristiche E divertirvi un po' Io ad esempio ragazzi Vi faccio vedere qui Visto che adesso sono nel mio mondo Ho fatto un tempio nella sabbia E infatti come potete vedere qui Io l'ho già aperto La prima volta vi dico soltanto ragazzi Che sono esploso dentro In questo cazzo di tempio Mi ha fatto esplodere E sono morto Come potete vedere qui Bisogna scendere piano piano Vabbè scendere piano piano ragazzi Ormai ho le attrezzature e tutto E qui ci sono trovato I diamanti Ferro Pietra rossa E cazate varie Adesso Ah non ce n'è Pensavo ce ne fosse molto di più No non ce n'è Vabbè Comunque qui c'era del Dinamite Che mi ha fatto esplodere La prima volta E poi ragazzi Se volete vi elenco Un pochino I vari mondi Che potete trovare Guardate Ci sono vari semi Tipo Un seme Cioè sono anche lunghi i semi ragazzi Sono molto lunghi Tipo Vediamo qui Qua Qua c'è ad esempio questo seme Che vi dà sia Il tempio della giungla E il tempio del deserto Due tempi del deserto Eeeh Anche Ci sono anche delle mappe E dei semi Che vi creano Delle mappe survival Delle isole survival O tipo Che vi creano Delle montagne Pensate che c'hanno anche Nomi Tipo Se volete C'è un seme che si chiama Ezio Auditore ragazzi Ezio Auditore O altrimenti C'è un seme che si chiama Donkey Kong Eeeh Poi altri semi E vabbè Non sono semi solo numerici Ma sono semi anche Con delle parole Scritte Che ovviamente The goods Must be crazy Eeeh Sì Ragazzi Sono vari semi Comunque sia Io ve li linko Anzi vi metto il link sotto E poi ovviamente Ve lo metto qui adesso Davanti al video Così lo potete vedere E potete prendere appunti Magari se siete sul momento State guardando il video Cliccate la pagina Lo tenete fermo un attimo Prendete il codice Lo scrivete Dove c'è scritto il seme E niente E lo prendete Per farvi il vostro mondo E crearne uno in survival O in In come cazzo si chiama In creativa eccetera Quindi ragazzi Da cura notate è tutto Scusatemi ancora Per la mia assenza Per la mancanza di titoli Ve l'ho detto È solo quel motivo C'ho tutti i titoli Su 360 Infatti adesso sto ritoccando Di nuovo la 360 Perché Ghost mi ha un po' stancato Anche se ci gioco sempre Quando mi capita Ci gioco sempre Con il mio clan Eeeh Quindi da cura notate è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Che vi sia utile Ovviamente Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente lo avete apprezzato Noi ci vediamo alla prossima Quindi Bella raga Ciao Ciao